Professor Rossi, quali sono le competenze e le qualità richieste ad un mediatore per la buona riuscita di un incontro? Professor Rossi, ormai lei ha partecipato a tutti e nove. Ho cercato di tradurre il mio intervento in due casi molto semplici per richiamare la vostra attenzione non tanto sulla qualità della mia azione quanto sulla misura vostra in due casi pratici e concreti. Primo caso, che peraltro è anche oggetto del prossimo panel di relatori, si presentano a me un uomo e una donna, giovani, nei quali lei confessa di essere stata fidanzata di lui, di aver convissuto con lui e di aver detto a lui che purtroppo per una malformazione fisica non aveva la possibilità di procreare. Nonostante ciò, il medico le aveva comunque suggerito di prendere la pillola. La persona prende la pillola, nonostante questo vanno a cuscini, termine espressione giapponese, ma credo che tutti voi ne comprendiate il significato, e hanno un figlio. Lei decide di tenere il figlio. Lui prima ci pensa, dopodiché intende agire in giudizio in quanto non vuole il figlio e vuole ottenere il risarcimento del danno in relazione a quanto è stato espresso in modo inveritiero da parte della fidanzata. Qua ci sono sia magistrati, sia persone esperte in diritto, sia tutti noi che siamo mediatori. Lascio a voi, come faccio ai miei studenti, di vedere e di inquadrare il caso sia nella fattispecie giuridica, sia nella fattispecie di mediatore, come si può risolvere il caso. Il secondo è molto anomalo anche questo, in quanto trattasi di... Vediamo un pochino se lo riesco a trovare. Eccolo qua. Il secondo caso è il seguente. Si presenta una paziente di 57 anni che richiede il risarcimento del danno in relazione ad una diagnosi di sospetto infarto al miocardio. Il primo intervento avviene in una struttura pubblica dove la persona richiede il risarcimento dei danni da medical malpractice per errato trattamento farmacologico a seguito del primo intervento. La compagnia di assicurazione che assicura la struttura pubblica, e non dico dove si trova, è incredibilmente la stessa impresa di assicurazione che garantisce la paziente in relazione ad una polizza di assicurazione di RSMO, responsabilità sanitaria e medica ospedaliera, ovvero il caso in cui il soggetto si assicura in caso di malattia o infortunio. Quindi abbiamo il caso in cui il soggetto paziente, il soggetto che interviene in mediazione e che chiede il risarcimento del danno, è allo stesso tempo... un soggetto che richiede il risarcimento del danno alla struttura sanitaria pubblica, all'assicurazione dell'impresa di assicurazione pubblica ed è anche la stessa assicurazione con la quale la persona ha contratto una polizza di assicurazione. Il secondo intervento infatti avviene a seguito di una malformazione al ventricolo sinistro in una struttura privata a pagamento fuori dalla struttura ospedaliera dove peraltro lei è vicina in quanto IVI Residenza. Chiede in relazione al secondo intervento una richiesta indennitaria alla propria assicurazione di responsabilità medico-ospedaliera. Nel primo intervento abbiamo una situazione di questo tipo. Fino a 70.000 euro vi è il caso di autoassicurazione, ossia self-insured retention, sempre più presente nelle strutture pubbliche di oggi. Il secondo limite è quello che va da 70.000.01 fino a 800.000 euro e siamo in regime di franchigia, e non specifico come, dopo abbiamo un massimale aggregato annuo di 5 milioni. La richiesta risarcitoria è di 100.000 euro. Quindi siamo nell'ipotesi in cui abbiamo superato la SIR, ma abbiamo la franchigia. Le franchigie possono essere gestite in due modi dall'azienda sanitaria. Ha fino a 70.000 euro in franchigia, in autoassicurazione, oltre con l'intervento senza l'intervento diretto dell'impresa di assicurazione stessa. La richiesta indenitaria è di 55.000 euro a fronte di un massimale di polizza di un milione. Come si risolve la situazione? In relazione al primo caso, il contratto ospedaliero eventualmente viene gestito da parte dell'impresa di assicurazione, in quanto era stato concordato nella procedura di appalto che la franchigia sarebbe stata comunque gestita dall'impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione, invece, nel secondo caso, contesta la richiesta di 55.000 euro in quanto indica alla paziente che la stessa in relazione al sospetto infarto di miocardio aveva e non poteva essere diversamente sottoscritto la polizza di assicurazione di responsabilità medica ospedaliera ben sapendo, ben essendo conscia di problemi cardiologici che la stessa aveva. Lascio a voi, alla vostra qualità, di mediatori, ogni eventuale considerazione su quelle che sono sia gli aspetti giuridici sia gli aspetti di qualità che il mediatore deve avere in relazione a casi come questo. E come dice Howard Raffa in The Art of Science of Negotiation occorre che il mediatore abbia la pazienza di Giobbe, la sincerità e l'ostinazione di un inglese, lo spirito irlandese, la resistenza fisica di un maratoneta, forse anche l'astuzia di Machiavelli, ma senz'altro occorre anche che abbia tutte quelle doti che noi italiani abbiamo. primo per tutti, sorriso e buonsenso. Grazie per la vostra attenzione. Grazie. 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 Grazie.